Siete alla ricerca di un deck che possa rendere difficile la vita del vostro avversario? Vi piace erigere muri difensivi, difficili da valicare per chi vi giocherà contro? Quale leader potrà disporre di tali armi, magari curandosi anche di una vita a turno quando sarà possibile? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Devo ammetterlo, questo P04 mi sta divertendo parecchio, ci sono diversi leader che stanno dicendo la loro nel meta attuale e la, per l'appunto, diversità degli scontri rende un qualsiasi torneo locale molto più interessante da vedere. Tra la rossa di scelte di quest'ultimo set, che ha visto unicamente leader bicaromatici fare la loro comparsa, uno in particolare ha suscitato la mia attenzione, avendo la possibilità attraverso il suo effetto di pescare una carta dal deck o, in determinati casi, addirittura curarsi di una vita. Sto parlando di Queen. Il luogotenente di Kaido ha messo insieme una ciurma di tutto rispetto, agendo dalle retrovie, mandando chi per lui in prima linea a sbarrare la strada con lo scopo di smorzare sul nascere eventuali offese rivali. Oggi quindi analizzeremo alcune delle meccaniche principali della Rockstar che, se utilizzate al meglio, vi permetteranno di erigere dei muri invalicabili, permettendo allo stesso leader e ad altri elementi utilissimi alla manovra di attacco del deck di tirare dritto alle vite avversarie. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite e molto altro ancora e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Queen giallo-blu. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo come sempre dal leader, che con i suoi 5.000 punti di forza e le tipiche 4 vite a supporto essendo un doppio colore, vi consentirà, quando attaccherete assegnandogli un singolo don, di pescare dal mazzo se il numero tra le carte in mano e quelle nella vostra pila delle vite sarà pari a 4 o meno. Inoltre, se possiederete in gioco un personaggio con costo pari ad 8 o superiore, avrete la possibilità di aggiungere una carta dalla cima del deck nella pila delle vite invece che pescare. La decklist in questione vedrà il quartetto di Kaia, Boa Hancock e Brulì provenienti dai rispettivi starter, Capone, Doflamingo, Sanji e Yamato, il tris di Pound, Katakuri e Mihawk, con la coppia di Sogeking per il reparto character, mentre per gli event ci saranno il quartetto di 3000 Ward e Red Rock con il trio di Gum Gum Rain che chiuderanno questa profile. Le carte cardine di questo mazzo saranno, di sicuro, i 19 blocker che popoleranno le fila alleate, con trigger davvero molto interessanti che vi consentiranno di giocarli gratuitamente se rivelati dalle vite, come le Boa, le Brulì e i Sanji, mentre i Pound risulteranno piuttosto utili se vi scontrerete contro mazzi aggressivi come gli Zoro, eliminando minacce come la controparte character di quest'ultimo o qualsiasi pezzo piccolo che avrà a sua disposizione. Con i Doflamingo potrete regolare a vostro piacimento la pescata, ordinando le carte che vorrete vedere in cima al deck che con l'effetto del leader potrete recuperare più velocemente. Tali risorse dovranno essere principalmente gli event Red Rock e le 3000 per nullificare l'entrata di eventuali colossi o pezzi pericolosi nemici per lo svolgimento della vostra strategia e all'occorrenza per regolarvi con l'artiglieria pesante, che vedrà carte come Katakuri, Yamato, Miyoke e Sogeking imporre la propria presenza sul campo di battaglia a vostra disposizione. Altro pezzo fondamentale del deck sarà Capone, che svolgerà una duplice funzione, counter più 2000 se vi ritroverete a dover vanificare un assalto rivale o bloccando un attacco da parte di Kivijou che raccontro, dato che, con il suo effetto trigger, andrà a stoppare sul nascere una fonte attaccante. Altro concetto da tenere bene a mente sarà utilizzate le rain solo in caso di estrema necessità, scartando ad esempio un'altra rain che non andrà così ad influire sullo svolgimento della manovra di gioco dell'intero mazzo. Infine, abusate del potere del leader ogni volta che vi sarà concesso, andando a costruire un muro di blocker sotto il vostro controllo, picchiando con Queen nelle fasi iniziali, centrali e finali dell'incontro, supportandolo con Katakuri, Sogeking, Dracul e Yamato, che vi curerà anche di una vita se ne possiederete una o meno a disposizione e chiunque potrà permettersi di impensierire le vite avversarie, magari assegnandogli anche diversi donne. Quindi, dopo aver visto l'intera lista e alcune dinamiche che la muovono, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda come funziona questo deck? Ho visto giocare diverse volte questo mazzo e devo dire che lo stile di gioco che più mi è piaciuto è stato il seguente, prendere vite a più non posso nella speranza di innescare qualche trigger, andando alla lunga a curarsi nel mentre che i propri pezzi ad 8 o 9 spadroneggino in battaglia. In più, l'utilizzo combinato delle Wars e dei Rock andranno a mettere davvero in ginocchio la bordo rivale, calcolando che anche l'effetto dello stesso occhi di Falco, del vice di Big Mom, di Yamato e dell'ultimo nominato, ma non per importanza Sogeking, respingeranno di continuo ogni presenza ostile. Per la fase offensiva ci saranno le stesse Yamato, i Miocchi, i Sogeking e i Katakuri che guideranno la carica, i Sanji all'occorrenza se vi ritroverete a dover usufruire di un'ulteriore fonte offensiva in fase di chiusura dell'incontro, e i Doflamingo che essendo comunque 4k, segnandogli un singolo don, potranno minacciare quel che basta il leader rivale. Per quella difensiva invece possiederete gli stessi Doffi ed una rosa di ben 15 elementi aggiuntivi che vedranno le presenze di Boa, Brulì, Pound e Sanji dare un supporto fondamentale, soprattutto se innescati attraverso trigger. Importante sarà anche la presenza di Capone, che se mostrato non appena preso danno, conterrà le offensive rivali, risparmiando un attacco in più ai vostri danni. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno di certo i Doffi, un qualsiasi blocker a scelta ed uno tra i tre colossi presenti nel deck, assieme ad un 3000 ed un Red Rock. Se sarà così potrete procedere tranquilli, in caso contrario, mulligan ed incrociate le dita. Parlando di match-up ve la giocherete bene un po' con tutti. L'unica cosa che potrà effettivamente mettervi bastoni in mezzo alle ruote sarà un crocodile, che con i vari elementi che avrà a disposizione vi potrà danneggiare non poco, facendo letteralmente sparire cose sul terreno. E all'evenienza anche uno Zoro, che con la presenza dei Diable Jump o dei Luffy imbloccabili potrà tirare dritto alle vostre vite. Per il resto non ho riscontrato particolarmente difficoltà nel portarmi a casa l'incontro. Comunque date sempre uno sguardo anche a Barba e a Katakuri, che alla peggio vi faranno passare un brutto quarto d'ora se partiranno molto bene. Per la win condition quella che ho attuato il più delle volte è stata tirare alla lunga il match andando ad esaurire le risorse avversarie. In più curandovi di una vita quando possibile e ogni volta che sarà presente un colosso in campo, darete una preoccupazione in più a chi vi giocherà contro, che non solo dovrà fare i conti con quest'ultima dinamica, ma anche scontrarsi contro un muro di blocker che gli sbareranno la strada di continuo e uno o più pezzi grossi pronti a far fuoco che dovranno essere gestiti. Una volta che quindi il rivale sarà arrivato agli sgoccioli, iniziate il bombardamento serrato per metterlo alle strette il più possibile fino a che non avrà più chance di fuga. Invece le carte obbligatorie, che non potrete assolutamente sostituire con nessun altro elemento, saranno ovviamente gli onnipresenti i doffi, i katakuri, le yamato, tutti i blocker, i capone, le 3000 ward e le red rock. Praticamente tutto il deck. Infine, per la fase counter, avrete a disposizione i più 2000, che vedranno kaya e capone, che vi offriranno supporto in fase difensiva, e le rain, che all'occorrenza vi forniranno più 3000 forza a costo zero. Prima di concludere, volevo fornirvi qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Queen parte per secondo, ma anche per primo non credo avrà grosse difficoltà, dato che la maggior parte dei suoi character avranno costo dispari. Cedere però la prima mano all'avversario vi permetterà di giocare carte ed attaccare, mettendo già da subito pressione alle difese rivali, costruendo nel frattempo le barricate dietro le quali mettervi al riparo. In più, ogni volta che avrete a disposizione le rock o le wards, pensate bene prima di utilizzarle e su quale target assegnarle, perché a differenza di Crocodile, che con le Miss Sunday va a riciclarle dalla pila degli scarti, qui saranno one shot. Quindi ragionateci bene prima di giocarle alla leggera. Concludendo, Queen risulterà essere un deck piuttosto ostico da affrontare e difficile da buttare giù, soprattutto perché chi se lo ritroverà contro dovrà costantemente rincorrere l'effetto del leader, che andrà a curarsi di frequente, soprattutto nelle fasi finali di un match, distanziando sempre di più il traguardo, che vedrà chi vi giocherà contro allontanarsi dall'obiettivo di vincere il match e voi avvicinarvi sempre di più al traguardo finale che vi vedrà uscire vittoriosi. E voi avete già testato le dinamiche di questo deck? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.